Si fa presto a dire matrimonio, ma per organizzarlo al meglio in ogni suo aspetto occorre avere le idee chiare, il portafoglio non troppo vuoto e tanta energia al pari della pazienza, soprattutto quando la data si avvicina. Per questo muoversi per tempo alla ricerca della location giusta, del vestito che più ci rappresenta o degli addobbi floreali più romantici diventa fondamentale. Proprio per andare incontro alle esigenze delle coppie che si accingono a fare il grande passo, da oltre vent'anni c'è Umbria Sposi. Questo è il ventiquattresimo anno per l'esattezza che la fiera dei desideri per le nozze, le cerimonie e le feste va in scena all'Umbria Fiere di Bastia Umbra, facendo sempre il pieno di visitatori. E allora, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 novembre, ci sarà l'occasione per tutti gli innamorati o per i semplici curiosi interessati al settore matrimonio e ricevimenti di fare un giro tra decine di espositori specializzati, pronti a offrire la propria consulenza in tema di abiti, catering e banqueting, viaggi, fotografia, addobbi floreali e tutto quanto ruota attorno al mondo del wedding. La fiera è aperta dalle 10 alle 21 e prevede ogni giorno eventi di intrattenimento tra musica, animazione, sfilate e tanti momenti dedicati alle degustazioni con il nuovo cooking show, aperitivo con lo chef, dove si incontrano e si confrontano i migliori operatori della ristorazione. E se si entra in coppia si paga un solo biglietto. Per tutti i dettagli si può a presto.